Buon pomeriggio da Andrea Cartotto. Questo video non è un videocorso ma una riflessione che ho ritenuto di condividere con tutti voi che mi state vedendo ed ascoltando sul tema della DAD, la didattica a distanza. Mi è sembrato necessario, semplicemente condividendo la mia esperienza specifica ultradecennale nel campo della didattica digitale, sfatare quei falsi miti, anche quella confusione generale che continua ad albergare su questo importante tema. Ora le prime indicazioni operative da parte del Ministero dell'Istruzione sappiamo che sono arrivate con la famosa nota protocollata numero 388 marzo 2020. Le indicazioni operative poi insomma hanno subito integrazioni, siamo giunti al decreto aprile 2020 del Ministro dell'Istruzione che sostanzialmente ci dice che si deve fare didattica a distanza nell'ottica di garantire la continuità del servizio. Però non dice fate quello che volete. Leggo numerosi post, mi confronto ogni giorno con colleghi di ogni ordine grado e c'è tanta confusione. Ad esempio WhatsApp è un programma ed un'applicazione di messaggistica immediata, non è didattica a distanza. Dunque se assegno un compito tramite quello strumento, sto tra l'altro utilizzando uno strumento che fa scorrere i dati che ospita su dei server che sono gli stessi di Facebook. Perché ricordo Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram sono le cosiddette quattro sorelle, cioè quattro servizi web che fanno capo ad un'unica azienda. E dire proprio che Facebook sia ecco l'azienda che ha più a cuore la riservatezza in assoluto per il contesto scolastico non mi pare opportuno. Ci sono altri mezzi per comunicare, ad esempio il registro elettronico. Il registro elettronico è un mezzo normato e contestualizzato nella scuola. Se si vuole utilizzare almeno un'applicazione sicura con una modalità corretta, allora ho Telegram, applicazione open source di messaggistica istantanea. Posso comunicare o addirittura posso non esporre ad esempio un numero di telefono ma utilizzare un nickname, ma soprattutto per la classe creo un canale che non è un gruppo. La comunicazione non va e viene, è unidirezionale, insegnante, eventualmente famiglie, ma non mi si risponde se non in privato e se c'è bisogno. In più, la DAD noi l'abbiamo, la DAD trasmissiva, in modalità sincrona e dunque vedo tutti gli alunni in tempo reale, ho il mio orario di lezione da osservare. Oppure ho la cosiddetta modalità asincrona, che ricorda molto, ed è questo il parallelo da fare, la modalità della classe capovolta, la flipped classroom. Io propongo un video, il video viene visto ed assimilato, l'indomani chiedo agli alunni se è stato tutto chiaro e posso proporre un'attività di rinforzo, di ripasso, nella quale chiedo loro di raccontarmi i punti di forza, i punti di debolezza, di ciò che hanno visto. Alla stessa maniera, l'ambiente di apprendimento è un telaio, mi viene ad esempio in mente, e li ho menzionati, tra le principali applicazioni. Classroom di Google, WeSchool, Office 365 Education, Moodle, che è un'altra piattaforma open source. Ecco, questi sono ambienti. Il fatto che all'interno permettano anche di fare video lezione, sì, è significativo, ma ci ho messo l'anche. Vuol dire che integrano una piattaforma per le video lezioni. Ad esempio, per essere chiari, Google Suite ha l'ambiente di apprendimento Classroom ma usa Meet. WeSchool, ambiente di apprendimento WeSchool ma usa Jitsi. Sono due concetti differenti tra loro e alla stessa maniera, tra le principali piattaforme per le video lezioni, io nomino ad esempio, app digitale di Fondazione Franchi, a base di software libero, perfettamente normata, Jitsi, open source, 8x8.wc, Meet di Google. Con queste piattaforme per la DAD trasmissiva, io che cosa faccio? Faccio lezioni in modalità sincrona, ma queste sono complementari agli ambienti di apprendimento. Parole molto povere, io posso usare app digitale per la video lezione sincrona e poi utilizzare WeSchool o utilizzare Classroom. In più, le video lezioni, io effettivamente non le posso fare a sentimento. Cioè, le video lezioni debbono necessariamente richiedere l'osservanza di alcune linee guida. Queste linee guida quali sono? Sono quelle intanto che rispettano il GDPR, cioè il Regolamento Europeo per la Privacy. Quindi cerco di informare bene famiglie, docenti, eccetera, di come tratterò i dati che mi giungono. In più, il dirigente scolastico dà indicazioni concordate con l'istituto nel suo insieme, sentito il DPO, questa figura che non è mitologica, esiste, è il Data Protection Officer. Una figura che fa da ponte tra la scuola e l'utilizzo che la scuola può fare dei dati. È sempre salva la libertà del docente, c'è un'imposizione dall'alto. Non ha senso, tra parentesi, non si può neppure fare, però in realtà delle regole ci vogliono. E io ne ho riassunte alcune, ad esempio, qui. Il docente si deve vedere e sentire webcam e microfono accesi, ma gli alunni, soprattutto di minore età, si mostrano per i saluti all'inizio, per un minimo di socializzazione e familiarizzazione, spengono poi le webcam e i microfoni, voglieli spengo io docente se la piattaforma me lo permette, si mostrano e si palesano quando li chiamo e quando sono interrogati. E se è un lavoro di gruppo ne posso chiamare due o tre, ma non esiste fare una lezione continua, totalmente trasmissiva, con 25 webcam accese, con i microfoni accesi per poi dire anche c'era un certo disturbo. E occorre prendere le contromisure prima, non sono gli strumenti tecnici a creare la difficoltà, siamo noi a dover delineare l'utilizzo. Questo vale anche per internet. La rete è neutrale, ok? Diventa buona o cattiva con il mio utilizzo. Ancora, l'altro giorno, su una comunità nazionale piuttosto grande, su Facebook, leggo un collega, mi ha detto che non posso fare con il tablet le stesse cose del computer. In realtà l'affermazione era mal composta. Sarà vero questo? No, con il tablet io cambio l'approccio. Prima bisogna riflettere su quello. Se con un computer lavoro via browser, via web o con un programma installato in locale, che è qui sopra, su un computer, con un dispositivo mobile, devo cambiare approccio perché uso le app e in subordine mi apro un browser come può essere Google Chrome e attivo la modalità desktop, se proprio devo vedere su un tablet un sito come se lo vedessi dal computer. Altrimenti utilizzo le soluzioni giuste, la scelta. Ecco perché non bisogna legarsi al nome di un programma e non si può dire fammi un PowerPoint, ma bisogna dire fai una presentazione, codice dell'amministrazione digitale. Sta a noi scegliere come far la presentazione. Se io uso Google Presentazioni, ad esempio, che è un'applicazione di Google in cloud, io lavoro sul computer, poi mi sposto sul mio dispositivo mobile, avrò la app di Google Presentazioni e andrò avanti a lavorare. Però ho cambiato l'approccio alla stessa maniera in questo momento ed è ciò che mi fa, diciamo, accalorare di più e lo sapete voi che mi state ascoltando e vedendo, siamo pieni di, ho sentito dire che, ho letto che, mi hanno riferito, queste non sono una fonte. Il docente è il primo ad avere il dovere di fare il fact checking, la verifica delle fonti. Il mi hanno detto è, apro male che vada un browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, per nominare i principali e controllo. Cosa accade? Questo è l'esempio da dare ai ragazzi, di qualsiasi età. Alla stessa maniera, problematica, insomma, comune a molte delle piattaforme, vedete che non li chiamo ambienti, le piattaforme per la video lezione. Cosa fare se io invito i miei alunni, c'è un ID, c'è un codice e loro devono cliccare. E intanto non mi posso lamentare di eventuali abusi se non ho posto nessuna contromisura. Per cui, dove è possibile, come minimo, inserisco password o codici di accesso, ma soprattutto do delle chiare linee guida prima e, nei casi poi particolari, lascio da parte la pigrizia e vado eventualmente a cambiare l'ID della lezione. Ne genero piuttosto uno nuovo per sessione. Mi viene in mente una realtà come Gizi, già ad esempio AppDigitale questa problematica non l'ha perché se il docente non è in classe, nessuno può stare lì da solo. Però ad esempio con altre piattaforme, male che vada nell'ID lezione lasciare lo stesso ma metterà meno la data del giorno in cui si svolge la lezione. E di nuovo una problematica variabile, Zoom sì, Zoom no, che fare? Tutti contro tutti, chi a Vanvera ha letto qualche cosa sul giornale La Riporta, gli alunni addirittura che prima non se ne interessavano e ora si rifiutano in qualche caso di fare lezione perché hanno letto che... No, parliamo di fatti. Ecco perché vi dico che ci vuole un docente, un esperto e bisogna parlare di cose anche a beneficio di chi non sa perché ci si confronti. Quei numerini che vedete a destra, vulnerabilità CVE 2019-13450-13449, sono codici di vizi di privacy che Zoom ha iniziato ad accusare già dal 2019. C'erano problematiche anche su computer Macintosh, quindi mondo Apple, per cui a causa di una falla ammessa poi dall'azienda sulla quale l'azienda ha cercato di lavorare, c'era la possibilità che qualche malintenzionato accendesse la webcam di un computer Apple, all'insaputa dell'utente. Insomma, non è una cosa nata oggi perché il giornale l'ha scritto. Non c'è nulla di male, questa è una valutazione laica e oggettiva. Nel 2020, qualche giorno fa, esplosa di nuovo la bomba di Zoom in tal senso perché dei dati risultavano reindirizzati su server in Cina, dati di traffico delle sessioni di Zoom. Morale della favola, ognuno si regola in coscienza, no? E in base anche alle competenze digitali che ha, però è dato oggettivo che Zoom non è nata per la didattica, è nata per il business, per il one-to-one, dialogo uno a uno, incrementando poi il numero degli utenti per sessione, cosa che si può fare. La banda, cioè la qualità, è anche buona, ma qui stiamo parlando di scuola, non parliamo di usiamo la prima cosa buona che ci viene in mente per poter fare lezione. Inoltre, e così, chiudo sperando anzi di essere stato utile e rimanendo a disposizione, sia tramite il mio canale YouTube, che tramite il mio profilo LinkedIn, il mio account social, eccetera, a confrontarmi, io dico, perché a me piace sempre dire, come Michelangelo ad 87 anni, che sto ancora imparando, però va condivisa l'esperienza e va detta la verità. Non ci si può affidare, non si può essere in balia di sedicenti esperti, i fuffologi, quelli che io chiamo i santoni del web in tempi di pandemia. Chi ha piacere di imparare, lega, faccia una lettura personale, uno studio, vada a vedere la condivisione delle buone pratiche, ma per favore, soprattutto insegnanti ed educatori, non commettano l'errore di affidarsi al caso, perché l'esempio ricade poi sugli alunni, di qualsiasi ordine grado si stia parlando, e il baluardo dell'istruzione deve essere ben chiaro e rimanere tale, perché la tecnologia applicata alla didattica dà origine a un binomio vincente, se utilizziamo il buonsenso ed anche delle competenze digitali mature. Grazie e buona serata da Andrea Cartotto.